Hai mai sentito parlare dell'allenamento vacuum gym? Ascolta fino alla fine e ti svelerò un segreto che fino ad oggi non ne hai mai sentito parlare. Il mondo del dimagrimento è in continua evoluzione e noi indubbiamente andiamo ai passi con il tempo. Vengono strutturati sempre strumenti efficaci per la perdita peso. Uno di questi è sicuramente il dispositivo per fare vacuum e gym. Devi sapere che questo macchinare è basato su una tecnologia derivata dalla ricerca scientifica e medicina estetica che unisce la camminata o una corsa sul tapiruline e ha i benefici del massaggio sottovuoto ad intrarosso. Associa il classico lavoro aerobico, spesso appunto viene consigliata sia per la perdita peso, centimetri in circonferenza ed è particolarmente utile anche nella prevenzione del colesterolo e non solo. I benefici dell'effetto vacuum ovvero il sottovuoto elimina le tossine, stimola la circolazione linfatica e sanguigna. Tutto meraviglioso, vero? Ma è arrivato il momento di svelarti un segreto. Sicuramente ci saranno centri estetici, palestre, farmacie che ti vendono la singola seduta come un qualcosa di meraviglioso e che bisogna farlo da solo. Io ti dico che non è così. Ma chi sono io per dire tutto questo? Sono Pamela Scribano che da oltre vent'anni mi occupo di dimagrimento. Ho aiutato più di mille donne nella perdita del peso e di taglie. Ho lottato contro tutti per questi trattamenti standard. E ancora oggi sono qui a ribadire che non esistono trattamenti singoli che funzionano. Non esiste un'apparecchiatura uguale per tutta la durata dei trattamenti. I risultati sono limitanti per non dire pari a zero. Nel metodo Rimodellati verrà introdotta questa apparecchiatura ma la introdurrò solo se lo ritengo opportuno e se fa al caso della mia cliente. Come ti spiegavo poc'anzi ci sono diverse funzioni e non è detto che vengono utilizzate tutte durante la tua seduta ma riceverai solo quello che è necessario per te. E ricorda il corpo va stimolato su diversi fronti. Mi raccomando di fidatele a chi vi dice altro. Questo è un lavoro sattoriale. Non fatevi prendere in giro da queste pubblicità. Tu sei unica e il tuo corpo deve essere trattato a tal senso. A questo punto scopri il modo migliore per modellare il tuo corpo in modo sano ed efficace. Il metodo Rimodellati? Provalo e sarai tu stessa a dire se avevo ragione. Ciao!